Tutti gli sviluppi di una qualunque società, di una qualunque entità economica si basa attraverso la conoscenza, quindi sul coinvolgimento di un capitale umano altamente preparato e formato, cioè giovani studenti, giovani laureati pronti ad intervenire nei problemi che il territorio propone. Allora questa opportunità deve essere, come dire, enfatizzata. Noi abbiamo tanti giovani che escono dai nostri corsi di laurea, non solo nelle nostre università, ma neanche tante università d'Italia, che possiamo coinvolgere sulle problematiche di ricostruzione, di valorizzazione di questi nostri territori. Avremo la possibilità di trasformare questo problema, un problema importante, in una opportunità. Basta solo crederci, io lo scrivo sempre in continuazione, bisogna investire sui giovani, bisogna investire sul capitale umano formato, bisogna portare tanti giovani in questi bei territori. Non solo trattenere quelli che già abbiamo, ma soprattutto attirarli da tantissimi altri e abbiamo la possibilità per farlo. Il seminario di Simbola è un esempio, è un esempio di come si possono portare interessi, eccellenze nelle marche e noi dobbiamo continuare a fare questo.